La famiglia è come una casa. Io per esempio sono come un carico di mattoni fabbricati in Italia ma rifiniti a Marsiglia e tu sei come una partita di mattonelle smaltate, affiorami e di colori delicati. Ora per fare questa casa ci vuole l'ingegnere per cuoco. Sì? Eh sì, per un buon matrimonio l'ingegnere è l'amore. Eh beh io chi so, non sono l'ingegnere. Ora se a questo palazzo ti piace, mi dici di sì, che sei contenta e stabiliremo le giur delle nozze. Grazie a sé dell'onore ma non posso accettare. Ah, hai comprito. Guardate. Scusi è qui il signor per cuoco? Sì, no, è là. Grazie. Ma mi scusi, lei chi è? Il signor per cuoco mi ha fatto venire da Roma. Sono venuta a lavorare per lui. Lei è della capitale. Eh, romana de Roma. Arrivederci. Una settimana che quella arrivata qui già ha fatto girare la testa a tutti i paesi. Mannaggia, oh sta romana io. Lo sai che mi piace pure a me. Oh e che torna lì, sarà la voce del cupolone. Eh. Ma se è assurdo che quella foa retta debba andare in malora solo per quelle quattro curve. Non ti pare niente. Ma qualità signore? Eh no, perché ci sono i bambini e poi ci sono anch'io. Ma fai presto, presto. Muoviti, muoviti che questi arrivano. Sì, sì, tranquillo. Lei deve pensare soltanto ad essere giovane per la sua fidanzata. Ma perché sono vecchio? Eh beh.